Quando si dice che la mafia è qua, la prima cosa a cui si pensa, essendo a Carrara, è che la mafia faccia faridoro nel mondo del marmo. Più che di riguardo, lo vediamo nei trasferimenti di quelli che l'ufficio marmo chiama i diritti di competenza, sarebbero i diritti concessori che la giunta trasferisce da un pseudo concessionario all'altro e guarda caso molti di questi trasferimenti sono a favore della SAM. Ora, io mi aspetto che se il Tar dice al Comune che non può chiedere il 100% degli oneri del marmo alla Ferdinando Vanelli, li vada a chiedere al socioesperto. Di fronte alla mia espressa richiesta in Commissione Marmo giusto ieri, la risposta del dirigente è stato no, non glieli chiediamo perché il regolamento ci impedisce di chiedergli alla Ferdinando Vanelli. A che ho obiettato al dirigente del marmo che c'è una legge che prevede che il marmo non si possa portare via a gratis ma si debba pagare un prezzo in base al valore di mercato del materiale scavato. In più c'è una sentenza del Tar, mi pare evidente che nel momento in cui il Tar dice che io non devo richiedere gli oneri al Ferdinando Vanelli, la conseguenza mi pare ovvia, li devo chiedere alla SAM. Invece per il dirigente al marmo questo non è così scontato appellandosi a un regolamento. Ora, a me risulta, non me ne intendo molto di diritto amministrativo, però se una legge dice una cosa e una sentenza del Tar dice la stessa cosa, mi pare che il regolamento in questo caso passi in secondo piano. Questo per raccontare un episodio, ma ce ne sarebbero tanti altri che ora non è il caso di stare a affrontare, però questo ci fa capire con quale occhio il Comune di Carrara tenga in considerazione nel mondo del marmo. Sempre a favore di chi il marmo lo escava e mai a favore della collettività. Almeno questo dall'analisi che possiamo fare così, un'analisi sommaria. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma qui mi fermo per dare la parola ai nostri ospiti. Abbiamo fatto varie interrogazioni ai ministeri di competenza, al ministro dell'ambiente, al ministro della giustizia, al ministro degli interni, per chiedere come mai nella zona di Massacarrara ci sono così tante anomalie. Per esempio abbiamo preparato nello scorso anno che hanno un'interrogazione legata alla zona adiacente al Cermex, l'ex Damas, nella quale venivano stoccati dei contenitori in materiale non sicuro da sempre, che provocavano delle fuoriuscite di materiale altamente tossico. Una zona che era stata presa, i quali nomi che gestivano queste aziende del passato erano usciti dalla desecretazione dei documenti voluta dal nostro gruppo politico, soprattutto il Movimento 5 Stelle, per quelle che erano le dichiarazioni del pentito di mafia schiavone. Da lì è uscito veramente che il nostro territorio ha avuto già nel passato moltissimi contatti con quelli che sono i fenomeni legati all'Andrangheta, la mafia, la camorra e quant'altro. E non è solamente un problema legato alle cave, ma noi pensiamo a tutto quello che è il discorso legato alla salute, al territorio, per esempio all'inquinamento. Di volta in volta facciamo uscire, almeno a livello mediatico, perché badate bene di tutte le interrogazioni emesse come gruppo Movimento 5 Stelle anche a livello nazionale. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto una risposta. A Carrara, mafia. Io ho una certa difficoltà, perché come io dico la parola mafia, qualcuno qua si incazza e fa i titoloni sui giornali. Allora, la questione mafia a Carrara sul marmo parte dalla vicenda ex IMEG. È una storia vecchia e per anni non si è fatto nulla. Noi oggi ci ritroviamo nella zona di Massa Carrara, tutta la provincia di Massa Carrara, un po' in una cupola oscura. Perché per anni, in qualche modo, o colpa dei cittadini che stavano zitti, o colpa della politica che non si occupava del territorio ma faceva l'inatrecci, questa cupola è andata sempre più a spessirsi. La possibilità del cittadino per riuscire a scoperchiare tutto questo. Noi ci stiamo provando, li stiamo provando veramente tutte. abbiamo fatto in interrogazioni, i consiglieri dei territori fanno in interrogazioni, discutono nelle commissioni, ma mai nessuno che si prenda la sua responsabilità di aver lasciato andare un territorio. Cioè, se il marmo doveva essere un bene di tutta la cittadinanza, perché oggi, come oggi, è in mano solo a poche famiglie e non riusciamo a ristabilire un'equità, è colpa nostra, è colpa degli amministratori, è colpa della legge. Io mi aspetto che gli amministratori facciano questi discorsi, che si impegnino in questo. ho sempre seguito e appoggiato le vostre battaglie sfociate anche nell'occupazione del comune. Questo è un segnale, secondo noi, importantissimo. Io sono siciliano e mi sono sempre... l'unica cosa di cui mi sono occupato come politica, come attività politica è stata l'antimafia, la lotta alla mafia. E il primo passo per combattere la mafia è il risveglio della coscienza sociale dei cittadini. Fino a che i cittadini non si ribellano, la mafia non può essere combattuta in maniera efficace. Resta soltanto un affare di giudici e di investigatori, i quali poi a un certo punto vengono stoppati dalla politica. Se si legge il 416 bis, che è l'articolo nel codice penale che persegue l'associazione delinquente di stampo mafioso, si vede immediatamente che nella formulazione che è stata data dai giuristi all'associazione mafiosa, una delle attività più tipiche della mafia che la connota è il controllo delle pubbliche amministrazioni. Questa è la caratteristica della mafia. Quindi quando qualche amministratore locale incomincia a innervosirsi perché si parla di mafia, le cose sono due. O è un grande ignorante oppure è peggio. Perché quando si truccano le elezioni, quando c'è il voto di scambio, chi è che è parte lese? Tutti i cittadini. Perché quello che fanno? Ci sottraggono la democrazia. E allora arriviamo a noi. Quando voi vedete questi muri di gomma, queste incapacità di risposta, queste opacità, a che cosa sono dovute queste opacità? Siccome sono appassionato di scienza, dovevo ragazzo, allora vedevo i documentari di Piero Angelo, ci sono gli astronomi. Com'è che gli astronomi hanno individuato i buchi neri? Che i buchi neri non si vedono. Dalle anomalie. Ci sono delle anomalie che erano inspiegabili e a un certo punto le hanno spiegate matematicamente con l'esistenza dei buchi neri. Bene. Qual è il buco nero di questo territorio? Di Carrara, della Toscana? Lo dobbiamo dire forte e chiaro perché noi siamo la luce che illumina questo buio. Il buco nero di questo territorio è la massoneria e lo dobbiamo dire forte e chiaro e noi vogliamo sapere chi sono i nostri interlocutori, se hanno nel cassetto i cappucci. Io lo voglio sapere dal chi amministra le società pubbliche, le ASL, perché qua si dice, mi diceva il mio collaboratore, la massoneria non vuole assessorati, vuole direttori. E noi lo vogliamo sapere, adesso pretendiamo di saperlo, quanti di quelli che dirigono strutture pubbliche, che siano della sanità, che siano dei rifiuti, hanno anche loro in tasca un cappuccio. Questa è la prima cosa che dobbiamo sapere, perché la seconda cosa che dobbiamo sapere è che da sempre la mafia ha utilizzato la corruzione e la massoneria per entrare e sedersi dove si banchettava con la cosa pubblica. Perché dove c'è oscurità, dove c'è mancanza di chiarezza, dove si fanno affari alle spalle dei cittadini, c'è una tavola imbandita. E così entra la mafia, non ha bisogno di apparecchiare. Poi diceva, ma ci sono i problemi, non si riesce a incassare, l'amministrazione è tiepida, è opaca, fa gli interessi di questi e non dei cittadini. Vedete, in natura non è che non esistono spiegazioni. A volte le spiegazioni semplicemente non le conosciamo. E allora che cosa si fa in un paese democratico quando non si conoscono le spiegazioni dei fatti? Si fanno le commissioni di indagine. Allora, se dobbiamo parlare di lati oscuri, noi dobbiamo parlare anche di fatti recenti che secondo me sono di una gravità enorme per capire questo buco nero che avvolge questa realtà. Quello che è successo con la programma ambiente apuane, SPA, in particolare con l'ingegnere Canovai, secondo me rischia di essere il paradigma di quello che accade quando non c'è chiarezza e quando intervengono le logge massoniche. Perché questo ingegnere ha un curriculum professionale di tutto rispetto in società che sono state coinvolte in una pluralità di indagini per reati seri che riguardano la mafia, non ultimo la Oicos di Catania, che ce lo porta un toscano a Catania, a Masca Lucia, con la Simco, con la Mosema, con la Gesenu. Voi pensate che solo la Gesenu? È stato rilevato che quasi il 6% dei dipendenti della Gesenu su 550 erano coinvolti a vario titolo in significative vicende giudiziarie, scrivono i carabinieri. Bene, questo signore il 20 maggio del 2015 è stato nominato presidente della REVET, società pubblica privata mista, che raccoglie selezioni, ricicla e rifiuti in Toscana. Chi l'ha nominato questo ingegnere? Noi lo vogliamo sapere, vogliamo sapere perché è stato scelto, in base a quale curriculum, magari in quale loggia hanno discusso questa nomina, e perché questo signore, malgrado un'interdittiva antimafia abbia colpito una società solo per il fatto di averlo come amministratore, questo signore sia ancora al suo posto, perché questo è il nodo della politica in questo paese, perché questo signore il suo curriculum non se l'è fatto così da solo, perché sennò sarebbe stato subito allontanato come uno repellente, no no, non è repellente a questa politica, anzi questa politica lo riconosce come uno dei propri, vabbè prima o poi vediamo che succede, magari se ne uscirà da queste inchieste, magari i cittadini se lo dimenticano, voi avete intenzione di dimenticarlo? Non credo. Avete intenzione di dimenticare chi l'ha nominato alla Revet? No, mi pare che presiede questa regione, mi sbaglio che presiede questa regione? No? Come si chiama? Rossi si chiama? L'ha nominato lui questo ingegnere. E non è giusto che i cittadini chiedono conto al governatore Rossi perché ha nominato. Io sono rimasto molto colpito dalle parole, tra l'altro dalle parole che ha speso il capo procuratore giubilare qualche mese fa, tutti ricorderete i titoli di giornale sulle indagini che hanno riguardato il settore lapideo. Ebbene al di là poi di quello che è stato il riscontro di natura fiscale, di quei controlli, di quelle verifiche, quello che mi ha impressionato e in qualche modo spaventato sono state le parole che hanno in qualche modo evidenziato un clima omertoso che riguarda quel tipo di attività. Cioè una sostanziale difficoltà da parte degli investigatori di avere notizie, informazioni, delucidazioni da parte degli operatori del settore. Vorrei aggiungere soltanto una riflessione, soprattutto sulle parole che ha detto il nostro portavoce Gianrusso, che ha parlato di commissioni di inchiesta che servono per fare luce su questi buchi neri che non sappiamo cosa sono finché non ci facciamo luce ma potrebbero anche essere conoscendo la nostra realtà cose molto molto brutte. Ecco alla luce di questo, di queste parole diciamo adesso forse tutti capiscono l'importanza della nostra richiesta che è stata presentata proprio ieri in consiglio comunale circa la commissione di inchiesta su Apoa Farma perché la mafia potrebbe essere in tutte le società partecipate, quindi non soltanto nelle cave, bisogna guardare a 360 gradi il nostro territorio. Quindi proprio ieri è stata fatta una richiesta di creare una commissione di inchiesta sulla società Apoa Farma che come tutti sapete leggendo i giornali ha quantomeno delle stranezze, così come ci parlava prima gli scopritori dei buchi neri hanno guardato le anomalie, ecco lì ci sono delle anomalie, è stata chiesta proprio ieri in consiglio comunale l'istituzione della commissione di inchiesta e ovviamente è stata rifiutata questa commissione di inchiesta. secondo il principio che mi piace ricordare è che gli americani sono anche spiritosi, secondo cui no, gli americani usano una frase spiritosa, dicono i tacchini non anticiperanno mai il Natale no? Se chiedi la commissione di indagine ovviamente. Esattamente, però serve anche a scoprire chi è tacchino perché ovviamente chi non vuole la commissione di inchiesta forse è un tacchino a questo punto. Noi le lobby le vediamo, le vediamo in azione, sappiamo anche chi sono i senatori, anzi le senatrici, esponenti dirette della lobby balneare. Allora io mi sento di dire una cosa al nome del Movimento 5 Stelle, un avviso chiaro e forte che se lo mettono bene in testa, noi in questo paese le elezioni le vinceremo e dopo averle vinte con la forza della legge ci riprenderemo tutto quello che stanno cercando di saccheggiare. Grazie.